Questa non è solamente una rivoluzione tecnologica, questa è anche e soprattutto una rivoluzione culturale. La comprensione dei fenomeni che sottendono l'industria 4.0 richiede il fatto di avere delle persone, delle competenze, dei tecnici che siano in grado di sfruttare le potenzialità di queste tecnologie. Quindi è chiaro che noi dobbiamo lavorare in Italia e soprattutto anche in Europa in maniera tale da avere le persone giuste al posto giusto e che sappiano utilizzare le tecnologie giuste. In questo senso nel piano nazionale 4.0 abbiamo inserito degli obiettivi direi ambiziosi ma sicuramente perseguibili su una serie di attività di formazione e di educazione che vanno su tutti i livelli. Abbiamo pensato che se opportuno raddoppiare il numero di studenti iscritti negli istituti tecnici superiori è importante inserire nei corsi formativi universitari competenze e pillole, così le abbiamo chiamate, sull'industria 4.0, è necessario anche andare a formare i manager, l'obiettivo prevede circa 3.000 manager formati in Italia nei prossimi anni, ma anche e soprattutto una serie di percorsi di formazione sulle persone che già oggi sono in azienda e che lavorano evidentemente proficuamente. Il piano deve quindi lavorare su tutti questi livelli e poi anche e soprattutto su tutto il territorio nazionale e soprattutto sulle piccole e medie imprese che sono la forza trainante del nostro settore manifatturiero.